Buonasera, libro di oggi. Juliet Hacking, I grandi fotografi, edizioni Einaudi 2015, 304 pagine, 108 fotografie. Movimenti sviluppi, l'evoluzione della fotografia attraverso lo studio della vita e delle opere di 38 grandi maestri della fotografia. Ridurre a 38 vite, a 38 professionalità una storia lunga quasi 200 anni è sicuramente una scelta azzardata, è sicuramente una scelta non esaustiva e opinabile e criticabile. Comunque dentro troverete appunto le storie di molti che conosciamo, tra cui Bill Brandt, Robert Capa, Margaret Bourke-White, August Sanders, Alcel Adams e altri, che ci porranno dei quesiti, ci racconteranno la loro storia fatta a volte di successi e a volte di insuccessi e a volte addirittura di problemi economici per la sopravvivenza. È una storia vincente, leggetela, buona lettura a tutti e a presto. Grazie. Grazie. Grazie.